Quante sono le domande che ti fai appena sveglio la mattina davanti ad un caffè Quante le risposte e fra quelle che trovi a colazione quante sono quelle giuste Noi siamo di quella razza che per scegliere un vestito in un negozio ci mette un'ora e mezza E poi ascolta tutte le opinioni e le analizza le soppeso per trovare le migliori soluzioni Sebbene dopo ore di conversazione abbiamo fatto solo confusione per capire ciò che ci conviene Non so se è un bene che rimettiamo in discussione Tutti i dettagli rilevanti che mettevano d'accordo fino a ieri tutti quanti Quante sono le persone che non hanno la più piccola incertezza all'ombra di un'esitazione Quante voci in un coro si rincorrono una sull'altra e si aggrovigliano, si intrecciano fra loro Ma noi siamo gente diversa Ci facciamo mille dubbi su ogni cosa, siamo ormai una causa persa E poi ascolta tutti gli argomenti E li valuta, li esamina, li sviscera fra i ripensamenti Sebbene dopo ore di conversazione abbiamo fatto solo confusione per capire ciò che ci conviene Non so se è un bene che rimettiamo in discussione Tutti i dettagli rilevanti che mettevano d'accordo fino a ieri tutti quanti Seppure questa canzone in sol maggiore so che sembrano un po' folle Ma propongo di spostarla in si femmelle Che è una tonalità un po' strana Vi confesso che quasi quasi forse preferivo quella prima Sebbene 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 Siamo giunti ad una conclusione Spero ci sia ancora il tempo di avanzare un'altra considerazione Spero ci sia ancora il tempo di avanzare un'altra considerazione Spero ci sia ancora il tempo di avanzare un'altra considerazione Sebbene Sebbene Quante sono le domande, forse sono tante, che ti fai davanti ad un caffè Quante sono le risposte, sono proprio tante, e fra quelle quante sono giuste Quante sono le domande, forse sono tante, che ti fai davanti ad un caffè Quante sono le risposte, sono proprio tante, e fra quelle quante sono giuste Quante sono le risposte, sono proprio tante, che ti fai davanti ad un caffè